Cioè immaginate di tirar giù 3000 persone in una manifestazione su sta roba qua A Darf, Boario, Terme Casino Cioè sarebbe la manifestazione più grande mai fatta E quella roba lì nella testa delle persone Rimarrebbe per quanto tempo Perché vuol dire perfino qua E' un problema perché certo è un problema dappertutto Certo Sei arrivato qua in macchina, odio le macchine No non è che odio Odio un po' le macchine Perché oggi mi è andato Non fa stare ridere perché oggi Cioè io sono il primo scemo che sponsorizza sempre i trasporti pubblici Oggi mi è andato una multa Sull'autobus Maledetti Ho il biglietto L'ho timbrato Nel co-timbratrice Obliteratrice Ha fatto il segno verde Buon viaggio Mi sono seduto E' salito il controllore E non lo so Non si era timbrato Era talmente poco visibile E mi ha dato comunque la multa E mi ha dato la multa Ho chiesto a un vecchietto Di fronte ha detto Ma diglielo tu Che io ho timbrato E lui fa Sì sì ma timbrato E niente Il cazzo Comunque mi ha dato la multa Quindi io scriverò Romperò Cominceva a Camera Cafè Romperò i marroni La direzione Perché Cioè che cazzo E tra l'altro sono Cioè non devi rompere le scatole A me che sono quello che cerca di trasformare Di convertire E far capire che i mezzi pubblici ci dovranno salvare Perché risolvono mille e mille problemi E quindi per il protesto Ho già preso la macchina Hai dovuto dire il cazzo Sono un attivista Io non voglio No 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 esatto Ma lei sa chi sono io No E' una poverata Ancora peggio Ma dai ci ho messo Un'ora e venti Con il traffico Infatti Ma di dove sei tu? Io abito a Brescia Però sono originario di Caino E ci tengo molto a dirlo Non so dove sia Neanch'io Caino raga Caino è all'inizio della Valle Trompia Perché all'inizio della Valle Trompia Dove c'è Bovezzo Concesi o Nave Ok concesi Nave A Nave Lavoro a Nave Ecco perfetto Tu devi di là E c'è Caino Grande Caino Quindi E lo sapevo Cioè quando vuoi Dai 18 anni Ho avuto la possibilità Di scrivere un articolo Sulla rivista di BMW Perché avevo conosciuto Il direttore di non so che cosa E mi aveva chiesto Io scrivo un articolo Io gli ho detto Guarda Io se ti scrivo un articolo Ti scrivo un articolo Ti scrivo che servono Meno macchine Ok Ah Sulla rivista di BMW Lui non me l'ha toccato Mi ha solo cambiato il titolo Perché il titolo era Servono meno auto Ma elettriche E però la storia Me l'ha lasciata identica No E la storia era Che quando sei in un paesino Tu vuoi solo avere 18 anni Sì Per fare La cazzo di patente Perché la patente Vuol dire libertà Cioè Hai la patente E la svolta Cioè puoi andare Dove vuoi Quando vuoi Puoi andare a prendere la tip Cioè È oggettivamente la svolta Tranne me Con la patente Non ho la macchina Ah va bene Perché macchina Vuol dire tipo libertà Cioè nel senso C'è quello il punto Cioè se noi avessimo Delle altre soluzioni Uno è molto più lì Cioè la questione è Veramente potersi muovere Certo Io non voglio un'auto Io voglio qualcosa Che mi permetta di potermi muovere Quando voglio Come voglio Se posso anche vermi Il numero di birre Che voglio Meglio ancora Che poi Cioè Insomma Quello dovrebbe essere Il concetto Quando sei in un paesino così E io vengo da un paesino Quindi lo capisco molto bene Cioè tu non vuoi Che ti Ti tolgano la tua libertà Cos'era Braveheart Che dicevano Non lo so Che chiudeva Che lanciava la spada Avete mai visto Braveheart? No mai William Wallace Troppo giovane È del 97 Braveheart Ah ecco Ti sei già risposto Perché non l'abbiamo visto Tra l'altro andare a prendere Le birre con la macchina Save the beer Save the beer Esatto Esatto Diciamola anche questa cosa qua Che la birra È molto a rischio Per colpa della crisi climatica Questo è molto importante Cioè il primo cartello Io pensavo ci fosse Il gioco di parole Save the beer Ah ok Bravo Allora Ma perché io pensavo Fosse l'ape Non avevo pensato No entrambe Cioè era nato dal Anzi Ti dirò di più Triplo livello Perché inizialmente Pensavo save the bears Quindi salvai gli orsi Quindi anche lì Era un classico Slogan di Greenpeace Poi anche save the bees Perché appunto salvare le api Biodiversità DDT Tutti i vari Come si chiamano Come si chiamano I fertilizzanti Tutti i vari assassini Degli animali Come si chiamano Insetticidi Insetticidi Grazie E quella roba lì Mi ha ammazzato Tantissimo la biodiversità Se voi andate in giro Non vi vengono più moschini Sui vetro Perché non ci sono più Gli insetti Morti E invece io ci ho aggiunto Le beers Quindi la R di beers Perché le birre sono Cioè il malto d'orzo In cui si fa la birra È molto sensibile Anche a variazioni Molto piccole Di decimi di gravi Di temperatura E quindi rischiamo Di pagare le birre Come in Svizzera C'è un casino Di qui a qualche anno Cioè è molto sensibile Nel senso che la produzione Esatto Rischia di crollare male Rischia di Magari di mezzare Un anno Come il miele Alla fine Che è molto sensibile E quindi le birre Sono Quindi dovremmo scendere In piazza per il clima E automaticamente Non sono le bevitore di birra Ma Non ancora Non ancora dopo questa Non la berai mai No scherzo Quando sarò maggioenne Non avremo più birra Esatto E non potrà bere No costano troppo Cioè costano troppo Senterà un bene di lusso Tipo Cioè diventerà una Stato simile Ma anche il vino Il vino è strarischio Cioè io ero andato a un evento Di Non si può dire Possono dire le marche Diciamo Le berlucchi Che sono questi produttori La francia corta Mi avevano invitato A parlare E quindi Ho studiato un attimo la cosa Il 56% delle vigne Il vino È a rischio Della crisi climatica Se noi superiamo I più due gradi Di aumento di temperatura media Adesso siamo circa A più 1,1 1,2 La soglia Quella un po' brutta Diventa più 1,5 Ecco con più due Che rischiano ad avere danni veri Metà delle vigne del mondo Sono a rischio Cioè L'Italia Che è il primo produttore Mondiale di vino Cioè cazzo dovremmo essere Super in pala Di sta cosa qua I produttori infatti Iniziano a A fare la vendemmia Un mese prima ormai Fanno tre settimane prima La vendemmia Una volta la settembre Adesso fanno Quindi è E vabbè Qua siamo anche in Franciacorta Cioè Franciacorta C'è qua sotto Quindi Tra l'altro per capire bene La differenza di temperatura Bisogna guardare il tuo TEDx Che fa il paragone Delle bombe atomiche Ah madonna Quello lì Si è terribile Quello lì Era stato James Hansen Che era al Tempos Non mi ricordo se era ancora Direttore della NASA O non lo era più O stava per passare E quindi nel 1988 Quindi 5 anni dopo La tua Vespa Nel 1988 Quindi raga 34 anni fa 34 anni fa Va al Parlamento statunitense E dice Ok signori e signori Noi stiamo inserendo gas serra Tipo la CO2 In atmosfera Quella roba qua Sta facendo scaldare Tantissimo l'atmosfera Quindi sta aumentando La temperatura media globale E di diversi decimi di grado Il problema è che Se tu dici a qualcuno Decimi di grado Uno ti dice Vaffanculo scemo Cosa cambia Oppure ti dice Senti che caldo Che fai Esatto Non funziona Non funziona il paragone Quindi lui ha calcolato Un paragone Che faceva un po' più para Ed era L'equivalente Noi stiamo inserendo In termini di energia termica In atmosfera Di gas serra Stiamo pompando In atmosfera Qualcosa come 400.000 Bombe atomiche Al giorno Cioè È come se Suodessero un'atmosfera 400.000 Bombe atomiche Di calore Ogni giorno Adesso non sono più così stupito Perché te l'ho già sentito dietro A qualche volta ormai Però la prima volta E' rimasto abbastanza allucinato Ah ok Grazie della Però la prima volta Io C'è la prima volta che l'ho sentita Io stavo E ho detto Ma come è possibile C'è cazzo E adesso è peggio tra l'altro Quella roba lì Era 30 anni fa Adesso di più Perché stiamo bruciando Molti più combustibili fossili Forse nel TEDx Avevi detto 3 miliardi di bombe atomiche Dal 98 Giusto è vero Una cosa del genere Forse fa meno impressione 3 miliardi Ah non era Non mi era un dato Forse sì Forse è giusto Diviso per giorno Fa quella Ah ok Hai fatto il calcolo Però questa cosa qua Dei numeri È un mio grandissimo trip No Secondo me Se io penso a 1 o 1.000 Mi rendo conto che 1.000 è 1.000 volte Più grande di 1 Ma se fai 400 mila miliardi È comunque tanto Sì però il cervello 400 mila miliardi 1 miliardo Cioè sopra una certa soglia Secondo me il cervello Noi non capiamo più Perde concezione Di quanto è più grande Se per me Tipo se dico 300 Per te è tanto Dici 300 Perché Riusciamo a immaginarti Se dico 7 miliardi Ci vuole Esatto Manca una se ci pensi Cioè una bomba atomica Fa un casino E riesci a immaginartela Ti dico Quattro Sette Mille Quattrocento mila Non so Non capisci Esatto C'è terribile Prima o poi farò un TEDx Spero solo su Quanto non capiamo i numeri Cioè secondo me Noi non stiamo salvando il pianeta Perché devi dire Ma l'aveva già fatto qualcuno Ce ne sono mille di TEDx Ma ci sono mille mila Ci sono mille mila C'è un TEDx per qualsiasi Come un'app Un argomento adesso Un po' Mi è venuto in mente Prego Tu con Fridays for Future Organizzi Cioè organizzi Non so che ruolo tu abbia Specificatamente Shopperi sul clima Cosa di questo genere I famosi Anche Esatto Non solo ma anche Io adesso mi ricordo Nel lontano Non lo so Penso 2019 L'anno pre-covid Sì L'unico anno ormai che ricordiamo Allora esatto Presumo Esatto Ormai quando si dice Tempo fa 2019 C'era stato un venerdì Che c'era stato lo shop A Brescia Si è organizzata la cosa Per andare Io non ero venuto E male Però qualcuno era venuto E mi ricordo che c'era Chi era molto a favore Della cosa E ovviamente i classici Sì Vai a shopperare Per saltare un giorno di scuola Che per una certa categoria Di persone sicuramente È vero Peraltro Presumo di no E mi ricordo Che c'era questa storia Di un mio amico Non ricordo chi Il giorno dopo Era a Brescia Aveva fatto una fotografia Alla piazza Viale di Brescia No 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 Non alla piazza sporca Quello è un altro discorso Una cosa molto Ionica Sagaccia Aveva fatto la fotografia Di un viale O di qualcosa Non mi ricordo E aveva detto Primo giorno dopo Lo shoppero sul clima Si vedono già grossi cambiamenti Cioè della serie Bravi Non è cambiato un cazzo Che grande E questa è una delle Delle critiche Che si sentono più spesso Non sugli shopperi del clima In generale In generale C'è una manifestazione Sulla protesta Dici bravo E adesso È cambiato un'ostia Questa è la domanda Della vita questa Cambia qualcosa Ma più che altro Perché questa domanda Cioè è la domanda Della vita perché Ce lo dico Io personalmente Noi quando scendiamo In piazza con dei cartelli Cioè noi siamo i primi Che ci facciamo questa Cioè secondo voi Oggettivamente Certo Sono stupidi Quando vai in piazza Con un cartello Che te lo fai tu La prima cosa che ti dici è Ma raga Oggettivamente Soprattutto se sei da solo Se sei da solo all'inizio Se non copierla In mezzo alla piazza Quando ti senti spirla A scendere in piazza Ma la roba Magic Secondo me E poi Parliamo anche di due numeri Che i numeri aiutano sempre Perché sono ingi Quindi i numeri Proprio sono la mia fissa E Cioè come se vuoi dire È difficilmente misurabile Inizialmente E devi farne parte Cioè Chiedete a chiunque Se lo trovate A chiunque Qualunque persona È venuta in piazza Al primo show Proprio di clima Il 15 marzo 2019 Quando noi ci aspettavamo Avevo comunicato alla Digos 1500 persone Lui dicevano Ma va ma che 1500 Vabbè segniamo 1500 Vorrei farvi un favore E ce n'erano Solo a Brescia 15.000 Quindi quel 10 volte tanto E il giornalista Del Corriere Del giornale di Brescia Ha detto Era da Quando era esplosa La buona piazza Loggia Che io non vedevo In piazza Così tanta gente Quindi vuol dire Dal 78 74 Raga 25 40 anni Cioè Non c'era stato nulla Negli ultimi 40 anni Che aveva convinto Persone Che non si conoscevano Perché noi Non ci conoscevamo Nessuno A scendere in piazza A dire Dovunque sei Che tu sia a scuola Che tu faccia qualcos'altro Oggi Per te La cosa più importante Questa mattina È essere fisicamente In questo posto A dire Non so magari benissimo Quanti sono le particelle Di CO2 in atmosfera Perché non ho idea Di Non so delle 400.000 Bomba atomica So solo Che questa cosa qua In qualche modo Mi riguarda So che riguarda Il mio futuro E so che dovremmo Fare qualcosa E quindi è per quello Che mi fanno un po' Incazzare Anche quando ci sono giornalisti Che fanno i servizi Vanno a beccare Quelli che magari Sono in piazza Non sa nulla Ecco quella cosa lì Io vorrei fare ai giornalisti Perché ne ho incontrati tanti E vorrei chiedere Farle loro quelle domande Tu sai spiegarmi La crisi climatica E tu che fai tanto il servizio E fai lo splendido Quelle robe lì Quei video lì Sono pessimi Perché ci fanno pensare A noi al peggio Cioè non ci esaltano A dire Cavolo c'è gente che ne sa Ci fanno invece giustificare C'è uno che è ignorante C'è qualcuno che è più ignorante Certo anche perché Stavano fuori Tutta la giornata Faranno Sì Perché poi Selezioni quelle che fanno più ridere Io lo capisco quella cosa lì Ma è pericolosissima Perché Tira fuori il peggio E ci giustifica Per cui poi trovi la gente Che dice Guarda quella roba qua non serve a niente Non devo guardarci dentro E quindi Cioè mi va benissimo Far finta a non guardarci Perché se poi ci guardi dentro Ti riguarda Sta roba qua da vicino Devi capire E quindi magari devi anche O peggio Magari poi rischi di sentirti in colpa Difatti Bisogna stare molto attenti A non far sentire in colpa le persone C'è un articolo bellissimo Su sito di Fridays Italia Che si chiama Non mi importa se fai differenziata Intanto scendi in piazza per il clima A dire Quelli dei combustibili fossi È proprio Esattamente la cosa che vogliono Che la gente si senta in colpa A dire Non sono abbastanza Green Non sono abbastanza Non sto facendo abbastanza Quindi non posso scendere in piazza Col cazzo Tutto il contrario Tu inizi a farlo E dimostra Che devo fare qualcosa Poi E questo ci metto la mano sul fuoco Perché è capitato a tutti noi Ti freghi da solo Nel senso Una volta che Prendi parte a questa cosa Dici cavolo ma Fammi capire un po' di più No sono sceso in piazza Fammi cercare di capire un po' di più Ti informi Perché Nessuno di noi è un pollo Cerchi di capire Perché poi Vuoi spiegarlo E quindi Leggi un articolo Magari metti mi piace Una pagina Inizi a capire cose E poi ne capisci sempre di più E capisci E capisci che sta Qua è mega importante Che Raga Uno dei due referenti Freddy's for Future Brescia Era uno che Tre anni fa ci tirava per il culo E adesso è uno dei due referenti Di Freddy's Brescia E dice Cavolo la cosa peggiore Che ho potuto fare È stata informarmi Una volta che ti informi Dici Madonna ma ci stanno tirando Per il culo In una maniera Allucinante Cioè lo fai per la rabbia E dici Ma basta E la seconda cosa Questi famosi numeri Cioè quanto è utile Scendere in piazza Oggettivamente Cioè fare un cartello Esatto Quando io ho visto un grafico A un certo punto Poi lo proiettiamo qua E quella è una legna svoltato Perché è un grafico Della gentile internazionale Dell'energia Quindi l'ente più grande Al mondo Che si occupa Di scenari energetici E fa vedere una cosa chiarissima Praticamente Noi abbiamo firmato Gli accordi di Parigi Che sono il primo accordo Sul clima Cioè tutte le nazioni Sono messe d'accordo Nel 2015 Ora tu vedi Gli impegni delle nazioni Nel 2015 Un cazzo Nel 2016 Un cazzo Nel 2017 Un cazzo Nel 2018 Qualcosina Cazzo dal 2019 In poi Fanno così Boom 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 Esplodono Tutti gli impegni Delle nazioni Sul clima Ma raga Ti giuro Fa così È un esponenziale Fa boom E perché nel 2019 Perché nel 2019 Perché Milioni di persone Sono scese in piazza Con il covid però No no Prima del covid Il 2019 Era l'anno In cui è cominciata Questa roba qua Cioè Gli accordi Gli hanno firmati Nel 2015 E hanno preso L'impegno Ma per anni 2015 2016 E raga Lo vedete nel grafico E vedete che È piccolino così Questo è un buon argomento Quella roba qua Ti giuro che È la roba che Misurata Mostra come gli stati Non facessero un cazzo Finché Non abbiamo iniziato A puntare il dito Contro e dire Raga Non state facendo nulla Iniziate a occuparvi Del nostro futuro E ribadisco Gli impegni presi Ancora adesso Sono impegni Non stanno ancora Riducendo le emissioni Ma il fatto Che abbiano iniziato A prendere impegni È ovviamente Il passo iniziale Per poter poi Andare a ridurre Queste maledette emissioni E quella roba lì È incredibile Come sia successa Esattamente Solo Quando milioni di persone Scese in piazza Ma pensate ai TG Pensate ai social Pensate alle pagine Pensate ai cantanti Pensate ai concerti Il verde sulle bottigliette Scritto Dai una mano all'ambiente Perché è comparsa Quella roba lì Perché io sono invitato A questo podcast oggi Perché mi conoscete Mi conoscete perché Sono sceso in piazza Con quel cartello di merda Quindi mi chiedi È servito fare il mio cartello Un sito save the beer Se sono qua a questo podcast Sì Forse sì Cioè Ed è molto visibile l'impatto Però uno ha bisogno Di vedere questi passaggi Ovvio che se vedi solo Il giorno dopo Ti dico vabbè Però ti dico Il comune di Brescia Chiuso con tre anni di anticipo Una centrale a carbone Perché noi abbiamo rotto le scatole Cioè Ed era da anni Che gli chiedevano di farlo Dopo che glielo abbiamo chiesto Una volta Due volte E dopo che te lo chiedono Non solo Dieci ambientalisti Che se ne occupavano dieci anni Ma te lo chiedono Quindicimila persone in piazza Giovani in più Che sapete che i giovani Ecco Quella roba lì L'hanno fatta Quindi Cioè Anzi È molto pericoloso Sottovalutare il nostro potere Perché È quello che vogliono E qual è il modo migliore Per far Per far sì Che questo passaggio avvenga Cioè Il passaggio dal Io individuo Che se smetto di inquinare Sostanzialmente Non cambia niente Al capire che la massa Può fare qualcosa Beh secondo me Non è vero che non cambia niente Nel senso che se tu lo fai Tu inizi a dire Ok Quello che posso Intanto io lo faccio Già solo ti mette nel mood Mentale In cui dici Ok perché io lo faccio Ogni volta che prendiamo una scelta Vogliamo giustificarcela No? Cioè Se facciamo qualcosa Lo facciamo per un motivo Vogliamo giustificare a noi Ancora di più Voglio giustificare agli altri No? Sì Ma perché tu fai Se non sai perché Invece inizi a informarti Inizi a capire No? Dici guarda Se posso evitare Il treno per esempio È più Cazzo ne so Fai meno emissioni Dell'automobile in generale Quindi lo faccio per quello Intanto ti metti nel mood Di farlo E dopo Non dico che pretendi subito Ma Ti interessa che anche gli altri Lo facciano No? E quindi magari Inizi a parlarne Inizi a capire perché E l'altra cosa Che sottovalutiamo un sacco È che gli altri ci guardano Cioè Non so che musica ascoltate voi Io ho ascoltato la musica Che mi ha consigliato Mio fratello Inizialmente No? Oppure ascolto un podcast Che qualcuno mi ha consigliato Guarda un film Speriamo Passaparola Cioè Capito Quella roba lì Tu che guardi gli altri È potentissima E questa roba qua Non solo si diffonde Cioè Letteralmente il movimento per il clima È nato così Ma non è nato tre giorni fa È nato Cioè Anni e anni fa Ha esploso negli ultimi anni Però quella roba lì È un potere potentissimo Perché ti metti tu in primis E ci entri dentro E l'altra cosa Strapotente È vedere che Se fossi in piazza da solo io Conta fino a un certo punto Se siamo in tre Vecchio non lo so Che poi anche quello è esponenziale Se siamo in tremila Sì E lì capisci Che è utile È proprio quello che dicevo Chiedete a quelle persone Che erano in piazza il 15 marzo Quella roba lì Se la porteranno dentro per sempre Cioè quella roba lì Che pensavi di essere in pochi Sfigati A occuparti di quel tema lì E scopri invece che c'era una marea di gente Preoccupata come te Di quella roba lì Quella roba lì È una roba Che se non c'eri in piazza quel giorno Non avrai mai dentro Ed è per quello che Esserci a volte fisicamente Fa tutta la differenza del mondo Ha cambiato qualcosa? Beh Tutte quelle persone lì Probabilmente sono diverse Cioè Veramente È una roba che poi Spionimenti Tutte no dai Ok Tutte no Molte sì Metti 5.000 Capito? Sì Che è un terzo Io sicuramente sono diverso 5.000 Cazzo sono tante Sono tante 5.000 a Brescia tra l'altro 5.000 a Brescia sono tante Cioè in Italia quel giorno lì Erano 550.000 E la volta dopo Erano un milione di persone Cioè non è che Cioè il ministro dell'istruzione La volta dopo Ha detto Ok È giustificato Se vanno a fare lo sciopero per il clima Perché è importante Cioè Non ci rendiamo conto Il ministro dell'istruzione Ha detto Quella roba qua Secondo me Se voi lo faceste Organizzandolo per bene A Darfo Boario Cioè immaginate di tirar giù 3.000 persone In una manifestazione Su questa roba qua A Darfo Boario Terme Casino Cioè sarebbe la manifestazione Più grande mai fatta E quella roba lì Nella testa delle persone Rimarrebbe per quanto tempo Perché vuol dire Perfino qua È un problema Perché certo È un problema dappertutto Certo Cioè questo che secondo me È potentissimo Il cambiare lo stile di vita Però a me sembra che Impatti relativamente poco Esatto Cioè secondo me Il punto alla fine È smuovere qualcosa Dall'alto Per cui le manifestazioni Sicuramente Creano qualche movimento Però Se mi dicono che Usare internet Consuma CO2 Al di là dell'esempio Però Chiudere l'acqua Quando ti lavi i denti Queste cose qua Cioè quanto effettivamente Fanno cadere un po' È capito Perché sono delle cose necessarie Che tu dici Ok smetto Però Cambia davvero Non lo so Allora È ovvio che cambia Però Bisogna Ho fatto un Non mi ricordo quando Un evento Un mesetto fa E parlava di questo qua Mi hanno detto Puoi parlare della rivoluzione I piccoli gesti Ho detto Va bene E il titolo che avevo dato era Nei piccoli gesti Le dimensioni contano Perché Nei piccoli gesti Le dimensioni contano Cioè Piccoli gesti Uno Cosa vuol dire piccoli No Piccoli vuol dire Che facciamo noi Cioè Quello che noi Possiamo decidere di fare In quella roba lì Tu hai Tanti grafici Puoi andare a vederli Dove le nostre Personali scelte Dirette Impattano Facciamo così Riassumendoli Quelli veramente ciccioni Che impattano tanto Allora Chiudere l'acqua Non ti lavavi i denti È questione di civiltà Non buttare le carte in terra È questione di civiltà Farla differenziato È questione di civiltà Non dovremmo farlo Per salvare il mondo Cioè Negli anni 70 Magari Sembrava di salvare il mondo Ma adesso Cioè Dovremmo sapere Che è una questione di civiltà Sono tre Riassumli molto milanesi Ed è tech Cioè Praticamente Se tu metti le cose più impattanti Le possiamo fare sono tre E le chiami tech T e c T è Trasporti Cioè Come ci muoviamo noi È Una delle robe più impattanti Che noi personalmente Possiamo Decidere di fare No Quindi è quella roba lì Tra una tonnellata Due tonnellate all'anno Tu vivi senza auto Elimini ogni anno Due tonnellate Di CO2 all'anno No Però anche lì Magari uno Non può vivere senza auto Perché Abiti a Caino Abiti in un posto Dove non puoi E energia Quindi l'energia Che scegliamo per alimentare La nostra abitazione In generale Quello che facciamo Però capito Se tu hai 17 anni Tu non decidi L'energia Puoi rompere le balle Dei tuoi genitori Per dire Alimentativi la casa È un'energia rinnovabile Quindi questo puoi farlo E C Cibo Siccome tutti noi mangiamo Magari adesso vi stavo simpatico Adesso un po' di meno Cibo Cioè Quello che mangiamo È una delle robe Che fa più emissioni Fa una Tra una e mezza Due tonnellate Due tonnellate e mezza all'anno Per la produzione Per la produzione Cioè se io ti dico che Quasi L'ottanta per cento Due tonnellate Cioè come i trasporti Come i trasporti Di più anche Cioè quello che io mangio A livello produttivo Impatta più di quello Che io uso per trasportarmi Spesso sì Molto spesso Tanto io mangio tipo il doppio Rispetto a una persona La media Io mangio un botto È impressionante Io mi mangio Mezzo chilo di pasta al giorno Due tonnellate e mezza Pranzo due tonnellate e mezza La pasta Impatta molto Cioè quello che impatta molto Sono in generale Proteine animali Carne Le proteine animali Nel senso che ovviamente Tu hai Cioè il numero Che mi ha fatto esplodere La testa Era che circa L'ottanta per cento Dei campi al mondo Cioè i campi che noi vediamo Sono campi Per dar da mangiare Agli animali Sì quello l'avevo visto Anche io Poi Questa qua Io sono sempre un ingegnere Le vedo sempre un ingegnere Cioè è molto poco efficace Come processo Tu devi dare 10 proteine agli animali Poi Per ricavarne E metti di fuori una Sì E' poco efficiente E' poco efficiente Proprio come processo O meglio poco efficace Poco No proprio Poco efficiente E' poco efficiente E' anche poco efficace E' anche poco efficace Per ridurre le emissioni Sicuramente Sì E quindi C'è un tizio Non mi ricordo Come si chiama Ah no forse la barilla Aveva fatto questa piramide La piramide alimentare No Prendi quella che vediamo L'elementare Tu prendi la piramide alimentare La ribalti Quindi sotto Dovremo mangiare Tante verdure Tanta frutta Tante robe piantate In generale La ribalti E se tu la ribalti Hai esattamente E corrisponde E' caramorosa Sta roba qua Corrisponde esattamente All'impatto ambientale Cioè le robe che dovremmo mangiare molto Hanno un impatto ambientale Molto limitato Appunto la pasta Mangiatene vecchio a cannone Oppure le verdure Le robe piantate In generale Hanno un impatto molto di basso Le robe che dovremmo mangiare meno Quindi che qualsiasi Dietista ti dice Guarda Carne rossa vecchio Limitala Una volta a settimana Cioè Ma è proprio quello che vediamo Ne elementari Ecco quella roba lì E' quella che impatta di più Perché per fare un chilo di hamburger Molto buoni Ti servono 15.000 litri di acqua Di acqua Sì avevo visto anche io La sproporzionata Immaginate un metro cubo Che è questa roba qua 15 15 cubi così Per fare 1, 2, 3 hamburger Cioè è una roba Cazzo È una roba folle Perché Sì queste cose le avevo viste Dar da bere ai campi Dar da bere agli animali In affinare E quella roba lì viene trasportata Tra l'altro il trasporto È pochissima roba La McDonald ha fatto Questa bellissima pubblicità Tipo la nostra carne È tutta italiana Ma il trasporto Fa tipo solo Il 5-7% Tutta l'emissione Cioè conta molto di più Che tu devi avere campi E quella roba lì Ok Ok Fatto tutto questo Mini mega cosa su tech Ora Questa roba conta Ma Tu stato Tu politica Tu regione Tu comune Devi permettermi di fare queste scelte Cioè se io non posso venire qua in treno Certo Trasporti Come cazzo posso fare Se io non ho l'energia innovabile Che posso scegliere Come cazzo posso fare Cioè se tu non mi Incentivi A consumare più plant base Come cazzo posso fare Sei obbligato La politica ha il ruolo fondamentale Di abilitarci tutte queste scelte In modo che le nostre scelte A quel punto Siano più pesanti Ma soprattutto Che io possa sceglierle Non so se sapete Cos'è la carbon footprint Sì Che è la No io no Che è praticamente È qualcosa tipo L'impronta carbonica Che tu hai Su Esatto Quanta CO2 Emettiamo per fare Questa roba qua Ecco la carbon footprint Sai di che è stata inventata No Da British Petroleum Ma va British Petroleum Che potete immaginare Era la più grande Una delle più grandi aziende Di combustibili fossili E ha inventato Sta cosa Ha inventato Non è che l'ha inventata Era diffusa Con una pubblicità Pazzesca Una pubblicità Pazzesca Andata a vederla Perché è fighissima Dicendo Intervistando le persone No Diceva Ma cos'è la carbon footprint Ah non so cos'è La carbon footprint È quanto tu emetti Di CO2 facendo No E poi tu vai a vedere British Petroleum Nel 2005 Cosa ha fatto E da lì ha Ha consumato Una marea di combustibili Fossili in più No E praticamente Il loro scopo è proprio Dire a noi Ma tu Gabriele Ma quanta CO2 fai E invece la domanda sarebbe Tu British Petroleum Quanto cazzo Di CO2 Come giornalisti Come giornalisti Che vengono a intervistare Esatto no Cioè il loro scopo è proprio Tradurre questo Questo problema sistemico Per cui noi non possiamo Accendere la luce Senza consumare combustibili Fossili perché Vaffanculo Hanno deciso per anni Per decenni Certo far sembrare Che la cosa importante Siano solo Esclusivamente i piccoli gesti E dare la colpa a te Ultimo degli stronzi E se la tolgono Che magari non puoi Nemmeno scegliere no Quando invece Avremmo voluto sceglierlo Trent'anni fa Perché sappiamo benissimo Che le aziende di combustibili Fossili dal Sì sì Più che non puoi scegliere È un discorso di Secondo me Quello che dovrebbe fare la politica È cercare di minimizzare Di portare a zero Il costo di questa scelta Cioè uno dice La macchina elettrica Bravo Costa il triplo Di una macchina normale No non c'è il triplo Però adesso Ormai costa Anzi con gli incentivi Non l'abbiamo pagata La cronaca L'abbiamo pagata di meno Dell'auto normale Con gli incentivi Quindi Sono usciti Qualche giorno fa Incentivi Esatto con gli incentivi Cioè quello è lo scopo Di gli incentivi Ridurre Il costo della scelta Che è un po' anche il discorso Che Forse ne parlavamo ancora Al giorno della consulta Quando si fanno i progetti Di urbanistica Cerchi di andar complicato Il percorso per le auto E' semplice il percorso Per i pedoni Perché in questo modo E' come se tu aumenti il costo A livello di tempo Per una persona Che vuole andare in auto E diminuisci il costo Per una che vuole andare a piedi Esatto Il canale La scelta Esatto Che uno dice Vaffanculo Io voglio andare in macchina Mi fai la strada più lunga Però In ottica collettiva Ha più senso E' quello che si fa Su qualsiasi cosa Ed è quello che si fa Cioè sulle sigarette C'è scritto il fumo Uccide Non so se lo sapete Sì Non lo sapevamo Non si può fare la pubblicità Del gioco d'azzardo Perché la gente Spende tutti i propri soldi No Cioè ma non si può più fumare Nei locali pubblici Perché morivamo Perché la gente Il fumo passivo È una delle Quarta, quinta, sesta Causa di morte A livello mortale Ma scusate un attimo E' quello che hanno fatto Con il green pass Ma è quello che hanno fatto Con il green pass Ma con le mascherine Non è obbligatorio E qui poi c'è la gente Che si è incazzata Io sono vaccinato Sono a posto Però senza Non puoi fare un cazzo Però esatto Cioè ti dicono No guarda Se tu vuoi non vaccinarti Tu puoi non vaccinarti Però non esci di casa Non puoi fare un cazzo Nudging Cioè nudging Spinge leggera Senza fare Ma è la cosa però Molto figa Per queste scelte qua Invece le scelte green Io odio la parola green Non so se si è capito È che ci portano vantaggi Cioè nel senso Chiunque uno Chiunque è passato All'auto elettrica Poi non torna più indietro Ma proprio lo vedi Nelle scelte Ma soprattutto Quella roba che dicevamo All'inizio Non ci servono più auto Ci servono meno auto Vaffanculo Cioè sapete da quanto Da quante macchine È fatto il traffico Quando c'è tanto traffico È fatto dal 5-10% Delle auto raga Cioè vuol dire Che tutte le altre Sono ferme E che per il 95% Tu occupi 10 metri quadri Ma soprattutto Pagli una roba Che non usi Cioè tu pensa Se comprassi una roba Una casa In cui non stai Per il 95% del tempo Ti sentiresti un po' coglione Poi ovviamente Non ha senso Che da domani Possiamo iniziare Vivertuti senza auto Ma è ovvio Ma nel senso Ma raga E quel discorso Facciamo prima Però è ovvio Che bisogna realizzare Prima bisogna avere Questa consapevolezza qua In modo che possiamo Lavorare tutti Nella direzione In cui ci conviene In cui non ci stressiamo In cui oggi sono venuto Qua in auto E ti giuro che Il pensiero costante Era Non posso fare nient'altro Non solo poi Sto fermo in coda In galleria Che odio Ma non posso fare nient'altro Mentre guido Quanto da fastidio Salendo sul pullman Prima sono andato in pullman Per prendere l'auto Dai miei E ho risposto alle mail Ho lavorato praticamente In pullman Ho risposto alle mail Ho risposto ai messaggi Ho creato due sondaggi Ho fatto cose Ho fatto cose no? In treno uguale E quando sei abituato così Perché abitando in città Va detto Abito in città Perché è in centro Quindi non uso mai l'auto Quando la uso Ormai sento una frustrazione Perché ti rendi conto Di quanto a volte è limitante Su altri aspetti No? E tempo In cui tu non puoi fare altre robe La cosa assurda È che veramente C'è una volta che tu vedi I vantaggi Di sua mobilità migliore L'inquinamento E la CO2 L'inquinamento Che è quello che ammazza I nostri polmoni qui ora Così facciamo questa distinzione L'inquinamento Tipo il particolato PM2,5 Questo è quello che fa male I nostri polmoni Che per cui ci vengono poi i tumori E Brescia Si è messi malissimo Anche in Valle Camonica Mi sembra È una delle più alte Anche in Valle Camonica C'è un pezzo centrale Sì 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 Ma anche forse il legno Il legno che brucia Il legno No no Il legno che brucia Ecco il legno che brucia È l'esempio perfetto Che fa inquinamento Quindi qui e ora Fa anche CO2 Ma la CO2 Che è quella che fa La crisi climatica Non fa male a noi Cioè stiamo producendo CO2 In questo momento Non ci fa male E è quasi L'ultimo degli aspetti Che vai a vedere Cioè io vado in bicicletta In città Perché vado più veloce Perché mi vengono le endorfine Perché dopo che vai in bici Ti viene la botta di endorfine E perché spendo di meno Principalmente per quello Tra l'altro poi Non faccio neanche emissioni No E questa cosa qua Sì è la figata pazzesca Di tutte le soluzioni Per il clima E non si parla mai Abbastanza di questo Cioè la dieta migliore Per il pianeta È la dieta più sana per te Cioè non bruciare I combustibili fossili Vuol dire che non li importiamo Dalla Russia Quella più comoda Quindi anche Esatto cioè questa cosa qua Non so quante volte Voi l'abbia sentita questa cosa qua Siccome non se ne parla Quasi mai Che tutte le soluzioni Per il clima Sono tutte le soluzioni Per costruire Un mondo migliore Sulla cosa di trasporti Del fatto che in bicicletta È comodo Non c'entra un cazzo Per visto che prima Parlavamo di Casey Neistat 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 Casey Neistat Ok Abbiamo qui Casey Neistat Abbiamo fatto Abbiamo fatto sto video Dove lui valutava I modi di spostarsi A New York Su una scala Pain in the ass Ok E lui diceva tipo Spostarsi in macchina Spostarsi in metro E concludeva Che la cosa che dava meno Male al culo Era spostarsi in bicicletta Ed era Probabilmente dieci anni fa Ma lo faceva Sì sì ma lo faceva Valutando bene Cioè diceva allora Tempistiche Scomodità Sbatti Prezzo Molto stile su Ovviamente Ma c'è sempre C'è un video di Casey Neistat Di lui che fa questi test Sulle bike lanes Sulle Ah sì Quella dove si schianta dentro Raga Quel video lì Che sono visto da 28 milioni di persone Andate a vederlo 28 milioni di persone E lui dice Mi ha fatto la multa Perché non posso andare Sulle Perché devo essere su ciclabili Tanto smontiamo un mito Tu non sei obbligato Ad andare sui ciclabili Puoi andarci Ma non è obbligatorio Cioè la strada appartiene Anche ai ciclisti Se vogliono Non possiamo suonare i clacson Se sono in quattro Ma potenzialmente Possono farlo Qua altre botte Ecco E lui andava sulle piste ciclami Dove c'erano tutti questi ostacoli Si schiantava contro Ho visto E quella roba lì Quel video lì Sensibilizza Molto di più le persone A dire Vaffanculo Se lì vuoi andarci Più di qualsiasi grafico Che vuoi Se avranno youtuber Video Podcast Podcast Serie tv Dove cazzo Sono le serie tv Che parlano Anche di questa roba qua Dove c'è il personaggio Che dice Cazzo Non conoscete voi Cioè non ce ne sono Non guardo molto O almeno di fama Molto famose No Capito Cioè è riuscito adesso Don't look up Sì Però non c'entra molto Col clima Non l'ho ancora visto C'è l'asteroide che scende L'asteroide che scende Eh sì Bello Io non l'ho visto Non c'entra molto Nel clima Quella roba lì Insomma Quella roba lì È letteralmente Il paragone gigante Della crisi climatica Ah come metafora L'asteroide Anzi almeno Il produttore Di tutti gli attori L'hanno fatto Con quell'ottica Ah ok Però non lo coglie nessuno Secondo me Ah ecco Per esempio Io non lo coglio Io ho visto Tutto il gruppo dei miei amici Era chiarissimo E mi dico Ah è un altro punto di vista Ok Noi siamo andati un po' dentro Della bulla sicuramente Ok Però quella roba lì È stato un primo tentativo Di parlare di un tema Cioè anche perché Vole dire proprio Sta arrivando Ci sta arrivando addosso Moriremo male tutti Eh la politica fa finta Di non guardarla È proprio la rappresentazione Se non ci avevo pensato Si investe a soluzioni Tecnologiche e magiche Adesso si parla un po' di più Di assorbire la cittura L'atmosfera Che lo faremo Tra vent'anni Parte della mia tesi Era su sta roba qua Poi qua c'è una nerdata Allucinante Non Ne parlo però In una puntata Di emergenza climatina Che si chiama Assorbire la cittura L'atmosfera mi sa Che si potrà fare Quello che fanno gli alberi In maniera più ottimizzata Però magari tra vent'anni Ok Cioè sarà Una delle mille soluzioni Che daranno una mano Assorbire Dobbiamo tagliare le missioni In proprio in maniera No ancora boh Sfoghiamoli 5-10 minuti 5 dai Quel famoso grafico Quello che fate vedere Con la torta Non mi ricordo come si chiama Ah Project Drawdown Che mostra La svolta bellissima Quello lì è una figata Secondo me Cioè fa vedere Un po' che parola Un grafico a torta Un pie chart Mostra Quali sono le cose Che impatterebbero di più Per diminuire Cosa L'aumento di temperatura Le emissioni Praticamente Quello lì è molto figo Perché mostra Si chiama Project Drawdown Andate a cercarlo sul sito Trovate tutti i dati pubblici Le soluzioni più efficaci Cioè non sono I settori che mettono di più Ma sono le soluzioni più efficaci Esatto Che secondo me È una cosa molto interessante Perché uno dice Ok Il trasporto è il settore Che mette di più Però non è che posso smettere Di trasportare Magari la maniera In cui posso ridurre le emissioni Me le riduce di poco E rimarrà sempre Un qualcosa che inquina tanto E qui invece fa vedere Le cose che possono Effettivamente ridurre E Cazzo ce n'è una Educare le donne Mi sembra Educating girls Educating girls Tra l'altro Messe insieme Le due soluzioni sui diritti Che sono Educating girls E family planning Che in realtà Sono praticamente molto legate Quindi pianificazione familiare Che vuol dire Quanti figli fai Educating girls E Quei dati lì Sono roba di Cioè sono centinaia Di ricercatori In tutto il mondo Che hanno messo insieme Quel piano lì E hanno visto come Nelle nazioni Dove Tu fornisci Pensate I diritti Fondamentali Quindi permetti Perfino alle ragazze Pensate È incredibile Di andare a scuola Non solo elementari Perché poi il problema Di tanti paesi È che Le donne in generale Sono molto più Sono le prime Che tolgono dalla scuola Poi Per realtà abbiamo visto Che anche in Italia Non è che la situazione Sia rosea Perché anche in Italia C'è un sacco da lavorare Sulla parità completa E Quella roba lì È una delle azioni Più forti Per ridurre le emissioni Messe insieme Sono la singola soluzione Più efficace Perché Tu hai Ragazze Le donne Che possono studiare Alle superiori All'università Quindi intanto Hai metà della popolazione Mondiale in più Che ti Aiuta a trovare soluzioni Perché finora Se non le fai studiare Cazzo tu hai metà Della popolazione Che non riesci a comprendere Appieno E metà della popolazione Che molto spesso In tanti contesti Gestisce poi la casa E magari anche le spese E l'altro aspetto Soprattutto è che Se tu dai diritti A una donna Si autodetermina Molto di più Quindi decide Se Quanti Quando Quanti figli fare Per esempio E di solito Quando una donna Ha la possibilità Di studiare Poi decide Di non fare 14 figli Ok In tutti i paesi Poi dove sale Il famoso PIL Che anche qua Si deve parlare Nell'infinito Dove Si sviluppa di più Diciamo La curva di natalità Scende molto Scende moltissimo Per cui in giapponese Hai meno di un figlio Nato a famiglia E quella roba lì Farà la differenza Tra essere 9 miliardi di persone Sul pianeta 10 miliardi 11 miliardi Che poi vogliono Tipo non so Mangiare E quindi Quella roba lì Cioè per cui Il problema Non è tanto La sovrappopolazione In sé Come noi Siamo in grado Di gestirla Anche perché Ci sono questi altri numeri Che sono impressionanti Del tipo che L'1% più ricco Del pianeta Di cui non penso Noi facciamo parte Sicuramente facciamo parte Dal 10 Non del 1% Emette il doppio Dei 3 miliardi Più poveri Cioè c'è un 1% Che sono quindi 80 milioni Di persone 80 miliardi Quasi E che fa parte Di questo 1% Che mettono L'1% Sono gli 80 milioni Per persone più ricche Sul pianeta Che quindi Cioè sì E' un problema Che siamo in tanti Perché più 6 Più emetti Giusto Però capisci che Se in Bangladesh L'emissione media È di 0,5 tonnellate All'anno E negli Stati Uniti Sono circa 18 tonnellate All'anno Oggi è che uno Stato Unitense Vale come 36 persone Del Bangladesh E qui c'è un'altra cosa Che avevo visto Guardandomi i video Vedi che entri nel loop Vedi che poi Entri nel loop E vedi Infatti inizi a guardare il video Inizi a perso Dove un altro modo Per ridurre queste cose Che probabilmente Si ricollega A educare le donne È cercare di portare Il più possibile Tutti i paesi Tutte le società Tutto quello che Fuori dalla soglia Della povertà Assolutamente Perché uno dice Se tu sei povero Tu pensi E non povero Tanto povero Che non riesci a mangiare Tu stai pensando Se sono le 8 del mattino Tu stai pensando A cosa cazzo mangerai oggi Eh sì E la crisi climatica È l'ultimo di tuoi problemi E sebbene queste Non siano società industrializzate Eccetera 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 Sono tantissime Le persone In questa situazione Sono davvero tante E ad esempio Sta cosa L'1% I 3 miliardi Quei 3 miliardi Il doppio Però Quei 3 miliardi Di persone Se uscissero Dalla soglia Dalla povertà Inquinano comunque La metà Dall'1% Ma comunque Inquinano Sì 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 Ma la cosa Positiva Che io Spero Tante volte Ci sono delle soluzioni A crisi climatica Che non sono Coglione Chiudi l'acqua Mentre ti lavi i denti E sono anche cose Che uno non si aspetta C'è educare le donne Ma chi cazzo L'avebbe detto Faccio l'esempio Che speriamo Non accada mai Se a un certo punto Collassano Quello che dico anche Nel TED Se collassano I ghiacciai Sopra l'Himalaya Che danno da bere A un miliardo Di persone Quel miliardo Di persone lì Senz'acqua Non penso Che se ne stia lì Sinceramente Cioè Ok E parliamo di tre nazioni Tipo India Cina E Pakistan Che hanno tutti La bomba atomica Quindi Capite che Ci conviene Sotto diversi Punti di vista Risolvere questa cosa No E la cosa Però è estremamente Positiva È che per esempio Le energie rinnovabili Hanno dato Noi Alcuni pannelli Per esempio Solari Che non usavamo più Li abbiamo Quasi sbolognati A un sacco di Posti Africa Mi spesso di generica Africa Perché non ricordo il paese Ma è un sacco di gente Che non aveva la corrente elettrica Circa 700 milioni di persone Adesso non hanno Ancora la corrente elettrica Puoi farti energia A gratis Pulita E quindi salti Direttamente il passaggio Per cui Passano come da noi Che abbiamo fatto Carbone Petrolio Gas E vai direttamente Non avere energia elettrica Devi avere energia elettrica pulita No Oppure passare Ma esattamente come Il cellulare No Sono passati A non avere Il mezzo di comunicazione A avere lo smartphone Quindi senza la pesantezza Deversi costruire Le rette telefoniche E molti paesi Riusciranno a evitare Il Bangladesh Va a costruire 10 nuove centrali a carbone Per dare elettricità Le ha tirate via E farà 10 centrali fotovoltaiche Salta direttamente Lo step in mezzo Ma perché gli conviene Perché gli conviene No E quindi La cosa molto positiva Che dovrebbe darci speranza È che Esiste la possibilità Di evitare Alcuni errori Che abbiamo fatto noi Certo Permettendo alle persone Di avere l'energia Perché Noi diciamo Non conviene Perché ragioniamo Sul fatto che l'energia Ce l'abbiamo già E dovremmo investire Per avere le stesse cose Che abbiamo adesso Esatto Cioè a volte è molto più Che non ce l'ha Cambiare Dicevo Non so se hai sentito In Valle Camonica Vogliono fare il treno Ed idrogeno Sì 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 Per cui togliere i treni Certo è andato il tizio Uno dei tizi Mezzimonicati con la roba lì E è andato a parlare Furlanetto E è andato a parlare Dopo di lui Ma quanto Cioè al di là del treno Ed idrogeno Che magari consuma di meno Rispetto a un treno Ordinario Cioè quanto Costa In termini di inquinamento Fare questa transizione Allora La transizione verso Le energie rinnovabili Cioè nel senso Una delle classiche domande Ma anche le pannelli fotovoltaici Inquinano Anche le paleoliche Inquinano E mettono Sì Ma nel giro di tipo un anno Si ripaga Cioè nel senso Riproducono l'energia L'energia che ti è servita Per produrli Quindi da lì in poi Tutta l'energia pulita Quindi sì Qualsiasi cosa Raga impatta in questi microfoni Però nel senso Capiamoci Cioè Adesso siamo bruciamo Adesso estraiamo 90 milioni Di barilli di petrolio Ogni giorno Ok Questa è la situazione 90 milioni A proposito di numeri 90 milioni Di barilli di petrolio Ogni giorno Solo che non li vediamo Tu non li dici 90 milioni Ma noi non ce li stiamo immaginando E quindi non ci stanno Neanche nel giardino 90 milioni Vuol dire 90 mila Per 100 mila Non lo so Non riesco a fare questo È troppo tanto Va bene Il terreno In generale Noi dovremo andare Tutto quanto Quindi trasporti Alimentazione delle case Riscaldamenti Verso l'elettrificazione 90 mila per mille 90 mila per mille Esatto 90 mila per mille Ok Niente Grazie È solo un vettore È un modo in cui Portiamo l'energia Se è idrogeno È come l'energia elettrica È pulita o sporca Dipende da come la produci E l'idrogeno Se è prodotto da gas Non conviene Vuol dire che bruciamo ancora gas Conviene solo se è prodotto Da energie rinnovabili Ma è uno spreco Se hai già l'energia pulita Trasformarla in idrogeno Per poi bruciarlo Riportarlo in energia Quindi in generale Avrebbe molto senso Puntare sull'elettrificazione Quindi elettrificarlo direttamente Difatti non so Se questo qua In Valle Camonica Sia più conveniente Per me personalmente C'era un problema Con l'elettricità Perché ne avevamo parlato Il problema secondo me Era l'acqua Perché erano venuti Erano venuti Un gruppo Ma l'energia elettrica Cioè devi mettere i pali Sul metti Metti dei treni Secondo me era sul fatto Che tipo tutte le gallerie Fossero troppo basse Io avevo letto Una cosa del genere Ma ci sono dei treni Anzi già adesso In Germania ci sono dei treni Forse dentro a Trenitalia Li ha ordinati Che sono elettrici Ma hanno dei pacchi Di batterie Per cui se a un certo punto Per chilometri Non hai E infatti quello ha detto Che forse c'era una soluzione Integrata a batterie idrogeno Ma che l'idrogeno serviva Perché per farla tratta Da Non so dov'è Edolo Capo di Ponte Non so dove arrivi In su Fino a Brescia Completamente con Quei cose di batterie Non era copribile Per cui diceva Che una parte di idrogeno Era necessaria E che l'alimentazione a rete Non andava bene Perché c'erano tutte le gallerie Che erano troppo basse Non conosco benissimo La cosa Però in generale In base a quello che hai letto Magari sto sparando Il senso è che Dovremmo andare verso L'elettrificazione Quindi senza sapere Leggere né scrivere Quindi senza sapere Benissimo il progetto C'è perché anche lì Mi dice poco efficiente Fare avanti e indietro No ma perché Sì poi devi produrre idrogeno E poi ritrasformarlo Fai uno step in più Di efficienza La combustione Cioè bruciare cose Sì È stupido Cioè raga Attualmente il modo migliore Che abbiamo per spostare le auto È a far esplodere qualcosa Cioè Non so se si chiama motore a scoppio Cioè a un certo punto Per fare esplodere le auto Fai boom Boom Ed è così Sono delle stufe Di quattro ruote C'è una cosa molto bella Sulla Sull'efficienza Del motore termico Cioè su quanto Dell'energia Dell'esplosione Del motore termico Arriva alle ruote Sai quanto è quella roba lì? Cos'è 20? 20 20% Perché tu vuoi vedere Che un po' va via in calore Un po' va via in tutti i componenti meccaniche L'ha caito Il cazzo ne so E quindi della potenza Che effettivamente tu generi Con l'esplosione Del tuo motore 20% Cioè quella roba lì Tu vuol dire che vai a fare 100 euro di benzina E 80 euro li bruci Letteralmente li bruci Sì sì L'auto elettrica È banalmente molto più efficiente Perché il motore elettrico Fa così Che gira Quindi solo attaccarlo a una ruota E gira Ed ho fatto questa cosa Che era molto brutta E gira E fa così Cioè E tanti dicono Dove la smaltisci la batteria Cioè il problema Della macchina elettrica Grazie per la domanda È una bellissima domanda Perché giusto ieri Ho letto che Tesla Nel 2022 2021 Ha già riciclato Il 92% Le sue batterie Ma il punto è Una batteria Sparano fuori dei numeri Ogni volta Ma il punto è Le batterie Non sono un problema Cioè non sono un problema Nel senso che Uno Sono fatti da materiali Terrerale Quindi c'è interesse Banalmente interesse E prettamente economico A riciclarle Due Avete mai visto In giro per I paesi I posti dove possiamo Mettere le batterie Ecco Quella roba lì Sono batterie Le altre batterie Sono quelle più grandi Cioè le batterie Sappiamo riciclarle Da non so quanto tempo Il problema è Costruire batterie In modo che siano Perfettamente staccabili Ma il cobalto Per esempio Tesla L'ha tirato fuori Dalle sue batterie Per questioni etiche Anche per questioni Di collo di bottiglia Per esempio Per cui rischiava Di avere approvvigionamenti Ma soprattutto Tu fai andare Non so Un'auto Per 500.000 km La batteria Ti scende Di un'efficienza Del 10% 20% Io ho una Zoa elettrica Quando quella roba lì Va sotto l'80% Di efficienza Me la sostituiscono E mi danno Una batteria Al 100% Loro la buttano via Ma col cazzo Che la buttano via L'aeroporto Di Fiumicino A Roma C'hanno lì Un tot di pacchi Di batterie Che hanno un'efficienza Un po' minore Cioè vuol dire Non si carica al 100% Ma si carica come il cellulare Dopo un po' Che si carica un po' meno E la usano Per accumulare Nel c'era i pannelli fotovoltaici Tipo Ah quindi Convertono in altre cose Ma uno stadio Uno stadio Non mi ricordo dove In Olanda Ha tutta l'illuminazione Viene alimentata Da fotovoltaico Che carica delle batterie Di auto usate Le mettono lì E prima di essere riciclate Raga Le fai in tre vite E alla fine poi Ma l'Unione Europea Punta ad avere Il 90% Delle sue batterie Prodotte in Unione Europea Da roba riciclata Per cui è un non problema Cioè So che viene sollevato Molto spesso Ma è un non problema Soprattutto ribadisco Se pensiamo ai 90 milioni Cioè uno dice Quanta roba devi smaltire Con l'auto elettrica Raga Quanta roba smaltisci Ogni giorno Con la tua cazzo di auto Che fai E ciccia E benzina E petrolio Che noi estrariamo Raffiniamo Trasportiamo Bruciamo qua E bruciamo Una cosa che mi è venuta in mente Ancora Sempre poi il discorso Che poi parti E vai a ruota E quello secondo me È un problema Magari mi stupisci Mi dici che è un non problema Anche quello Speriamo E l'accumulo delle rinnovabili Ok Quanto tempo abbiamo Servirebbe molto Che le rinnovabili Hanno un capacity factor Che vuol dire Per quanto tempo Funziona un impianto Di un tot No? Cioè Esattamente come l'auto Aspetta Perché forse abbiamo saltato un pezzo Cioè banalmente Il problema qual è Che il pannello solare Va di giorno Non va di notte E la paleolica Va quando c'è vento E quando non c'è vento Il problema grosso È che quando tu Se tu hai mille mila Pannelli solari Quando c'è Quando c'è luce Hai paradossalmente Più energia Di quella che ti serve Potenzialmente E idem con le paleoliche Quando c'è vento E quando Non c'è vento Per le paleoliche O è notte Tu comunque L'energia Ne hai bisogno E non hai un cazzo di corrente E il problema Potresti risolverlo Accumulando Quell'energia Che tu hai In eccesso E potenzialmente Puoi averla Perché se metti Infiniti pannelli Solari Ha infinite energie In eccesso Di giorno E poi usarla di notte Il problema È l'accumulo dell'energia Esatto Perché ad oggi Non esistono Dei sistemi Di accumulo Di energia Sia sufficientemente efficienti Dovremmo collegarci Molto meglio A livello europeo Cioè per esempio La Francia Ha tanto nucleare Sfruttiamo quella roba lì Per Non lo so Di notte Per esempio Caricare le centrali idroelettriche Ma anche le centrali idroelettriche Abbiamo Sono numeri che non vi dicono nulla 8 gigawatt Per farci capire Il picco di potenza in Italia Durante una giornata tipo È 60 gigawatt Solo le centrali idroelettriche Avremo 8 gigawatt Quindi un botto Ok Di dighe E quella roba lì Non la stiamo utilizzando Adesso in maniera intelligente La stiamo usando per fare il cash Cioè per produrre Quando ti costa di più energia E non a livello strategico Quindi Perché è quello che si chiama La scelta energetica Perché sono scelte Cioè dobbiamo decidere Di andare in un'altra direzione Soprattutto Perché il mio amico Riesce a consumare l'auto Il 90% di energia Perché dice Quando c'è il sole Faccio la lavatrice E quando c'è il sole Ricarico l'auto Noi potremmo risparmiare 30-40 miliardi di euro Che sono tanti A livello europeo Solo interconnettendoci meglio Solo Cioè perché Stiamo sprecando un sacco di energia E noi nel 2035 Dovremmo essere Praticamente Con il nostro sistema elettrico Decarbonizzato Perché è il 35 Almeno è il percorso Per sperare di rimanere Sotto gli 1,5 gradi Perché esatto Noi non l'abbiamo detto Ma noi Abbiamo Nell'orologio Nell'orologio Abbiamo pochissimo Ecco non l'abbiamo mai detto Finora Questa roba qua Ma in realtà è una cosa essenziale Cioè Noi dobbiamo agire Mega in fretta Perché la temperatura Nel frattempo va su E rischiamo Degli effetti A catena terribili Davvero incontrollabili Quella cosa dei ghiacciai In Himalaya Non sappiamo Quando avverrà Avverrà a più 1,7 gradi A più 1,9 A più 2,2 Non lo sappiamo La domanda è Vogliamo correre Quei rischi Cioè E anche solo Se fosse una possibilità Su 100 Vogliamo correre il rischio Che collassino I ghiacciai dell'Himalaya Cioè noi sappiamo già Che i ghiacciai sulle Alpi Entro il 2100 Spariranno Ok Se non agiamo però Cioè No more A mezzo C'è il rischio Nel percorso Che stiamo facendo adesso Tutti i ghiacciai Sulle Alpi Perenni Non ci saranno più Entro il 2100 Possiamo limitare Assolutamente Questa è la cosa Che dobbiamo dire tantissimo Noi siamo in grado Di limitare Le peggiori conseguenze Assolutamente in grado Conosciamo le soluzioni Le soluzioni Ci convengono Sono economicamente convenienti E ci migliorano la vita Cazzo Ci migliorano la fottuta vita Più tempo per noi Lavoriamo di meno Lavoriamo meglio Mangiamo meglio E abbiamo l'aria più pulita E qualsiasi cosa Ma non lo stiamo facendo Alla velocità necessaria Stiamo andando nella direzione giusta Ma non alla velocità necessaria E quanto abbiamo Cioè l'orologio del clima Ad esempio quanto è che Allora segna il tempo che manca Prima di raggiungere i più 1,5 gradi Se volete farvi un tatuaggio Tatuatevi Ah che tipo 1,5 gradi E la sogna Esatto Dice indica 7 anni e mezzo Per cui a questo grado di emissioni Entro 7 anni e mezzo Siamo a 1,5 gradi Ok Esplode il mondo 1,5 gradi No Non è che esplode il mondo Il rischio è di Arrivare a effetti Che non siamo più Grado di Effetto palla di neve No Per cui davvero Ogni azione conta Cioè Ogni azione conta Davvero È davvero così È ovvio che I livelli a cui dobbiamo agire Sono Tutti cazzo di neve Secondo A partire dal 2019 C'è stato questo picco Sarà esponenziale Oppure Allora Attualmente sta Sta essendo Sta stando Esponenziale Cioè davvero Io ho potuto fare questa domanda qua Al governatore della banca di Francia Così almeno Che Forse ha il suo parere Un po' di più di quello di mio zio Per quanto mio zio Saluto mio zio E gli ho chiesto Ma ascolta vecchio E che è davvero vecchio E gli ho detto Ma Tu Non so Nella tua carriera Questa roba qua Dell'accelerazione Sui disinvestimenti Dal fossi Se io mi metto Guarda io sono 40 anni Che faccio il banchiere Non ho mai visto Un cambio Nella società Così repentino Come quello che stiamo Venendo negli ultimi tre anni Ma mai visto Bello Quindi questa è una cosa figa La cosa Cioè Dobbiamo tenere a mente Questa complessità E chiudiamo con questa Cioè Negli ultimi tre anni Abbiamo cambiato tutto E non è ancora minimamente sufficiente Non so se riusciamo a tenere insieme Questa cosa qua Negli ultimi tre anni Raga abbiamo cambiato tutto E non è ancora minimamente sufficiente E Ci vuole un attimo per capire Cioè per dire Noi dovremmo fare 100 Prima stavamo facendo 1 Adesso stiamo facendo 10 Ne riparliamo tra altri tre anni Ne riparliamo tra altri Ci risentiamo tra altri tre anni Tra altri tre anni Ottimo Va bene Grazie Giovanni Grazie mille Grazie mille Voi devi dare l'invito Facciamo la firma sul muro No è piano Ti prego Sì Cerca di non strapparlo Fantastica Ottimo Buona crisi climatica a tutti Fine Come Ok Stoppiamo Stoppiamo Sì sì Vabbè Stoppiamo tutto